A. Mi ubriaco B. Mi drogo C. Gioco a scacchi D. Mi diverto con gli amici Mario, hai ancora a disposizione tutti e tre gli aiuti Sei ancora indeciso? Prova con l'aiuto del pubblico Ti è rimasto un ultimo aiuto La telefonata a casa In linea c'è Anna da Bolzano Mario, dai, è una risposta facilissima Mario, Mario Mi diverto con gli amici? È la tua risposta definitiva? L'accendiamo? Accendi il cervello! Iscriviti al canale Grazie a tutti.